Il sindaco di Andrea Giovanna Bruno ha nominato ieri il collegio dei revisori dei conti della multiservizi, provocando ulteriori mal di pancia che si aggiungono a quelli già provocati dall'indicazione sempre del sindaco del dottor Antonio Griner per il delicato ruolo di amministratore unico. Le fibrillazioni maggiori sono in atto soprattutto nel Partito Democratico e nella lista futura, ma anche altri esponenti della maggioranza pare non abbiano gradito le scelte operate dal sindaco e dal suo cerchio santo più che magico. Insomma, se si vanno a sommare i contrasti accumulati in questi due anni di consigliatura, per molti versi si potrebbe parlare quasi di separati in casa. Esempio plastico, oltre che comico, i due convegni, uno sul piano di mobilità sostenibile organizzato dall'amministrazione e l'altro sulle nuove norme di esecuzione del PRG organizzato da Partito Democratico e Futura che si sono svolti in contemporanea, nello stesso giorno, ieri, stessa ora, posti diversi, ma a un centinaio di metri di distanza, a sottolineare lo spirito di collaborazione e soprattutto l'intenso dialogo che intercorre nella maggioranza. Insomma, siamo ai dispettucci come nell'asilo Mariuccia. Ma passando dalle comiche alla ben più seria questione della multiservizi, sul cui futuro le nubi non si sono certamente diradate, sappiamo bene come la nomina di Antonio Griner sia stata contestata non per le qualità del professionista tra i più affermati della città, ma per l'inopportunità determinata sia dal fatto che al momento della nomina Griner era il mandatario elettorale del notaio Sabino Zinni, candidato con il Partito Democratico, sia per dubbi sulla specifica competenza richiesta per ricoprire tale delicato ruolo. La Bruno si è giustificata dicendo che non c'erano altri nomi che invece, chi contesta la nomina, afferma siano stati fatti. Ieri il cerchio si è chiuso con l'indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Michele D'Ambrosio presidente, Antonella Santo Vito e Arcangelo Paradiso effettivi, Michelina Leone primo supplente, Francesco Vurchio secondo supplente. Insomma, tra amici, collaboratori di studio e interlocuzioni con parti della minoranza, si è cercato di accontentare un po' tutti, meno il Partito Democratico e la lista futura, le cui proposte evidentemente non devono essere state considerate all'altezza. Timide le proteste, che sono vehementi al limite della violenza verbale al bar, salvo sgonfiarsi quando si tratta di essere conseguenziali. Qui all'Homo Sapiens si sostituisce l'Homo Cachiellus. Il PD lancia l'ennesimo penultimatum, ma i suoi consiglieri non sanno cosa fare perché non si fidano l'uno dell'altro e fanno bene. Con Giovanni Vurchio, che a convenienza gioca a carta a lungo 77 belle e denari, e gli altri che hanno difficoltà a mettersi in due. Fatto sta che il sindaco va avanti e tutte le scelte rientrano nel cerchio sacro di quello che definimmo un monocolore salesiano. E se il presidente D'Ambrosio, già revisore con Giorgino, è, come dicevamo, gradito e forse concordato con parte della minoranza, la splendida sintesi della beata amministrazione Bruno è Nomen Omen Arcangelo Paradiso, che fa parte della confraternita del Santo Sepolcro, che non poteva non essere rappresentata nell'alto dei cieli dell'amministrazione della papessa Giovanna. E vai!